Siamo con Gianni Beschin, si ritorna a lavorare dopo domenica una settimana di allenamenti, quali sono le sensazioni dopo una vittoria del genere? Qual è l'umore? L'umore è ottimo, il morale di più, abbiamo fatto una prestazione che veramente è da incorniciare, meritavamo di fare una prestazione così per noi stessi, per ritrovare consapevolezza dei nostri mezzi, per soddisfare un pubblico numerosissimo domenica allo stadio e credo che tutte queste componenti che abbiamo dimostrato mettendole in atto domenica, abbiamo dato motivo di ricrederci, tutti noi convinti più di prima, dopo una prestazione opaca che abbiamo fatto a Roggiano, dove praticamente tutti noi siamo rimasti sorpresi di una prestazione che doveva essere quella che ci proiettava ad affrontare un incontro importante come quello di domenica e che invece purtroppo ci ha deluso un po' tutti, i giocatori per primi perché si sono messi nelle condizioni di consapevolezza e di non aver avuto, diremmo così, giustificazioni per una prestazione che assolutissimamente nessuno si aspettava. Il prezzo da pagare però sono tre squalificati, sei stato contento della direzione arbitrale oppure hai qualcosa da ridire a proposito? Direi che in una giornata veramente alta per lo sport dimostrato qui in questa partita, la Terna purtroppo è stata quella che meno ha soddisfatto le aspettative, non è stata all'altezza di gestire gli episodi chiave, un arbitro che fin dall'inizio forse magari perché sentiva la gara ma si è dimostrato indisponibile, non accettava il dialogo non solo con noi dirigenti ma men che meno con i giocatori in campo e soprattutto la delusione è stata perché di fronte a situazioni evidenti non è stato all'altezza di saperle gestire nel modo migliore e quindi da tutto ciò ne è derivato un nervosismo che i giocatori taluni sono riusciti a gestire ma altri si sono lasciati un po' andare, questo però non giustifica un comportamento che assolutissimamente non condivido ma che purtroppo in situazioni così si verificano e quindi anche per me in settimana è stato un motivo di entrare nel merito, di parlare con loro e di far capire che una partita di calcio non deve trasformarsi in maleducazione e in comportamenti non consoni a quello che noi siamo e che ci teniamo ad essere. Rossano è una piazza importante, ha un'immagine, ha una storia dietro di sé da continuare a tenere in elevata considerazione e dispiace che alcuni si siano lasciati andare perché poi appunto le conseguenze le abbiamo viste quali sono e pesano, pesano parecchio su quello che è il nostro percorso e soprattutto la partita che andiamo ad affrontare fin da domenica dove purtroppo avremo di che soffrire in un campo difficile, in un campo ostico in un ambiente non certamente ideale per noi ma che sappiamo di dover andare ad affrontare e speriamo in bene insomma. Non ci sono alternative? Bisogna assolutamente vincere? Beh è normale che noi da adesso alla fine dobbiamo vincerle tutte se vogliamo essere consapevoli di credere nel nostro convincimento di poter ambire alla promozione finale è normale che dobbiamo vincerle tutte se questo non si dovesse verificare punteremo ai playoff non è che il nostro campionato sia compromesso se non dovessimo arrivare primi però è normale che col potenziale che abbiamo dimostrato di avere la soddisfazione è quella di vincere il campionato gli playoff diventerebbero non dico un ripiego ma un po' una semidelusione quindi dobbiamo vincerle tutte dobbiamo assolutissimamente essere consapevoli che in casa dove la legge dello Stefano Rizzo non tradisce ma soprattutto fuori dobbiamo essere convinti di fare le partite come sappiamo fare e cambiare rotta fuori non stiamo facendo come dovremmo e quindi già da domenica quindi sarà d'obbligo partire con la testa giusta e con la consapevolezza di fare il risultato e con la consapevolezza di fare il risultato